buongiorno oggi è la festa di san giacomo apostolo ci fa bene farci amici questi uomini che sono gli apostoli persone semplici che tuttavia hanno saputo fare cose straordinarie ma ci fa bene proprio riconoscerli nella loro profonda umanità che gesù ha riconosciuto e accolto pienamente il vangelo di matteo al capitolo 20 dal versetto 20 al 28 ci presenta proprio giacomo nella sua esperienza più naturale accanto al fratello giovanni l'evangelista vanno da gesù e matteo dice che mandano avanti la mamma il corrispettivo di marco invece mette in bocca a loro la richiesta che fanno al maestro vogliono essere i primi della classe vogliono sedere accanto a lui nel regno dei cieli colpisce che proprio due apostoli e due santi apostoli siano presentati in questo loro desiderio di primeggiare di essere i migliori direi anche proprio di potere cioè di avere in qualche maniera un potere sugli altri ci sorprende forse ci scandalizza ma ci fa bene riconoscere che chissà proprio perché anche dentro di noi esiste tutto questo allora a volte puntiamo il dito sugli altri a giudicarli nel caso ne riconosciamo questo stesso bisogno di essere al primo posto è interessante che gesù non rimprovera questo desiderio ma piano piano li porta a riconoscere la maniera di realizzarlo gesù non si spaventa delle nostre fragilità ma soprattutto riconosce nei nostri desideri la possibilità di un di più e così propone a loro il cammino del servizio perché non è male desiderare di essere i primi è male farlo sopprimendo gli altri o calpestandoli gesù mostra invece lo stile del servo ed è questa la logica che sconvolge il mondo giacomo lo imparerà bene imparerà la lezione ed infatti sarà uomo fondamentale nella prima comunità cristiana di gerusalemme sarà tra l'altro il primo a dare la vita come martire tra i suoi compagni berraccio è lo stesso calice del maestro del figlio di dio che si fa servo dunque impariamo da giacomo a essere veramente noi stessi a riconoscere quello che si muove dentro di noi anche quando ci dà fastidio e non ci piace ma mettendolo nelle mani di gesù a lasciare che sia lui a trasformarlo in occasione di santità cioè di donazione essere servi vuol dire donare se stessi agli altri questo hanno fatto tutti gli apostoli questo possiamo fare anche noi ed essere santi nella nostra umanità portata alla pienezza del dono buona giornata con san giacomo grazie a tutti